Assessore, sono partiti i lavori al Pincio di Fano? Sì, sono partiti i lavori che avevamo annunciato che dovevano partire dopo gli eventi che abbiamo comunque tenuto in quella location e quindi sono partiti, la ditta sta facendo del proprio meglio, stanno lavorando in particolare su Via Corridoni che sarebbe la strada a fianco del Pincio vicino alla Via delle Rimembranze e poi anche la strada che all'inizio della scuola verrà utilizzata da tantissimi studenti, dai mezzi pubblici per portare gli studenti a Fanesi e non solo, presso le scuole del centro storico quindi abbiamo dato priorità ai lavori in quella strada che stanno quasi praticamente finendo che speriamo di poter finire appunto nella prossima settimana in maniera tale che il 17 quando riapriranno le scuole quella strada possa essere transitabile sicuramente dai mezzi pubblici e non ci possano essere disagi per chi è per l'utenza appunto scolastica i lavori poi proseguiranno principalmente per la sistemazione del marciapiede lungo Viale Buozzi quindi lungo la statale 16 per intenderci ci sarà un restringimento di carreggiata un restringimento di carreggiata che quindi porterà ecco anche una variazione della geometria di quella strada e un rallentamento dei veicoli cercando di fare ovviamente e di tutelare, di far passare comunque i tantissimi pedoni che soprattutto appunto all'inizio della scuola frequentano quella zona dunque ci sarà un restringimento di carreggiata, gli operai lavoreranno in sicurezza diciamo nella, come si dice, a ridosso tra le mura e la statale e elimineranno quella siepe che a nostro giudizio è anche abbastanza brutta e la sistemeranno in maniera tale che possa essere un luogo più bello che si possa evidenziare ancora di più il bastione del Nuti e poi i lavori continueranno sull'arco di Porta Maggiore e infine fino all'arco d'Augusto che è il simbolo della nostra città e che sicuramente il lavoro complessivamente potrà dare pregio e valore a un angolo della città che aveva bisogno di una riqualificazione urbanistica. Grazie a tutti.